Numero 5. La recensione di Vegavero Aizen Plus è stata entusiastica. Questo integratore di ferro senza additivi è ideale per vegani grazie al gluconato ferroso e alle vitamine B6, B12, C e acido folico che favoriscono un migliore assorbimento. Con 14 mg di ferro per 120 capsule, garantisce facile digeribilità e supporto nutrizionale ottimale. Una scelta eccellente per chi cerca un prodotto sicuro e efficace. Trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione. Numero 4. La recensione di Weightward Ferro Bislicinato mette in luce un integratore di ferro di alta qualità, perfetto per chi cerca un'opzione senza glutine e adatta ai vegani. Le compresse sono facili da deglutire, rendendo l'assunzione giornaliera semplice e priva di stress. Ogni compressa contiene 14 mg di ferro bislicinato, fornendo un totale di 365 unità per confezione. Una soluzione ottimale per mantenere livelli di ferro adeguati con facilità e senza compromessi. Trovi il link di questo articolo in descrizione. Numero 3. Equilibra presenta il suo integratore di ferro con ferro solfato, acido folico e vitamina C, un alleato ideale per chi necessita di un apporto di ferro senza glutine. Le capsule sono arricchite con vitamina C, che favorisce l'assorbimento del ferro, e acido folico, utile per combattere la stanchezza. Con un contenuto di ferro di 21 mg per 180 capsule, questo prodotto non è adatto ai vegani, ma rappresenta una soluzione efficace e pratica per migliorare il benessere quotidiano. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. Numero 2. Colors of Life Ferro Plus è un integratore di ferro presentato in comode capsule. Utilizzando gluconato ferroso con l'aggiunta di acerola, ogni capsula offre 15 mg di ferro ben assorbibile grazie alla vitamina C. Con 60 capsule per confezione, è perfetto per chi cerca un'alternativa senza glutine e adatta ai vegani. Ideale per migliorare i livelli di ferro nel corpo in modo naturale e sicuro. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto. Numero 1. Pharma Nutra Sideral Forte è un integratore di ferro ideale per chi cerca un apporto nutrizionale senza glutine. La combinazione di pirofosfato ferrico e vitamina C garantisce un elevato dosaggio di ferro, ben 30 mg per unità, e un'eccellente tollerabilità. Il gusto neutro delle capsule facilita l'assunzione, rendendo il prodotto accessibile e adatto a molti. Un'ottima scelta per mantenere i livelli di ferro nel corpo senza compromessi. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione.